Sì, è divertente di giocare il mio nuovo team, conosco molti ragazzi e abbiamo fatto alcune belle cose l'ultima settimana, ma spero di giocare. Hai già parlato con alcuni amici di Inter Verovole Monza? Un po' questo anno, ma questo sarà il primo in cui ho visto la maggior parte di loro. Sì, sono piaciuto di vedere. Come l'Ube ha bisogno di migliorare in quanto riguarda Milano? Credo che solo bisogna confruttare le nostre capacità e giocare come squadra. Credo che abbiamo mostrato quanto bene possiamo giocare in alcuni dei nostri giocatori e bisogna trovare il nostro ritmo di nuovo. E se possiamo fare questo, credo che possiamo fare alcune cose speciale.